L'amore, eh? L'amore e il sesso, argomenti atomici da spiegare. Allora, oggi parliamo di festini. Ci sono stati festini gay, festini etero, addirittura preti, uso di droghe costante. Allora, che cosa bisogna capire e come bisogna muoversi per salvarsi la salute e la vita, visto quello che è uscito in questi filmati, nelle dichiarazioni di che partecipava a queste feste? Quindi è questo che oggi vi volevo raccontare in maniera distesa e tranquilla, raccontandovi quello che può essere l'uscita con una ragazza e spiegandovi cose attraverso degli esempi pratici, per poi lasciarvi con un consiglio sul come gestirvi. Perché poi in fondo le cose vanno capite, vanno percepite. Bisogna capire chi siamo, come siamo fatti, come sono fatti gli altri e come sono strutturate le cose e le dinamiche, in questo caso le dinamiche del sesso. Ci sono tantissimi libri, io l'ho letto a centinaia, il mio argomento preferito, ormai l'avete capito. La gnocca, l'amore, persino Letizietto, tantissima gente, crepè, tutto sull'amore, il sesso, dieci e lode. Però ci sono troppi libri che non danno spiegazioni pratiche. Allora sono orgoglioso di raccontarvi un sacco di cose, tra pochissimo, partendo da un'ispirazione che mi ha dato un ragazzo che ha letto questo libro, che si chiama Max Massimiliano, che ringrazio, perché mi ha detto, ho letto sul giornale quello che succede nei festini estremi e tu avevi spiegato tutto in quattro pagine, una pagina circa, pagina 30, in cui spiegavi delle nozioni base sul sesso e sull'erotismo, perché poi mancano le nozioni base. Allora, perché la gente rischia la vita per il sesso e che consiglio vi lascio? Parto dall'inizio. Cioè, la prima cosa che bisogna sapere è che sesso, se tu non cerca la parola sesso, la parola sesso è legata a due altre parole. Una è piacere e una riproduzione. Allora, il sesso è legato a piacere e riproduzione, ma piacere è donna, anche se la gente dirà io estremizzo, però il sesso è donna, non è uomo. Infatti, se tu hai 100 donne e un uomo, potenzialmente hai 100 figli. Quella è la funzione, la riproduzione. Se hai 100 uomini e una donna, hai un sesso estremo o una gangbang, se vogliamo un attimino sorridere. Questa è la grande differenza. Allora, l'altra differenza è enorme, enorme, che tantissimi registi hanno cercato di spiegare, tra i quali Tinto Brass o Bigas Luna, è la differenza fra eros, tra erotismo e sesso. L'uomo ama l'eros, il maschio ama l'eros, la donna ama il sesso. Ok? E uno dice, no, questa è una cazzata. No, questo è il punto chiave dal quale partire per poi capire i festini e le droghe, come poi capiremo. Cioè, tu pensa a quando... a quante volte Tinto Brass ha fatto vedere nei suoi film delle scene erotiche e non sessuali. La scena erotica dura 10 minuti, la scena sessuale 30 secondi e poi si stacca e si cambia scena. Viceversa, viceversa, nei film porno c'è tutto sesso. Quindi paradossalmente, paradossalmente, i film erotici sono fatti per le donne, i film erotici, scusate, sono fatti per l'uomo, i film pornografici sono più fatti per le donne. Ok? Allora, tu pensa, tu pensa anche a come finisce il film, per esempio, di Bigas Luna con Francesca Neri del 90, andate a vedere la scena finale, finisce nello stesso modo dei festini con una scena estrema di una festa, di un'orgia, dove un uomo ci rimette la vita per una pratica che non è prevista, perché si va oltre e ora lo capiremo. Allora, tu pensa quando esci con una donna, esci con una ragazza, e che cos'è che è piacevole? È l'erotismo. L'uomo ama con gli occhi. E quindi il fatto che lei esca con te, si faccia bella, si mette i tacchi, il profumo, il fatto che uno che ti sale in macchina e sai che si è fatta bella per te, quello è già l'erotismo, la porti a cena, la guardi, mangia con te, e quello è già un godimento. Quello è il grande godimento. Ecco perché molti uomini vanno, anche facoltosi, che potrebbero avere 200 donne a letto, vanno a vedere le donne nude nello striptease, vanno a guardare e non vanno a fare sesso, perché l'uomo ama con gli occhi. Viceversa la donna, come vedremo, ama in altri modi principalmente. Quindi vai a cena, fai le tue belle cose, parli, chiacchiere, stai già godendo. A un certo punto vai e finisci a letto. E lì cambia tutto. Cambia tutto perché lì sei solo perdente. Puoi o pareggiare se sei bravo o puoi solo perdere. Perché? Perché ti accorgi subito che la donna è tattile, ama col tatto. La donna ama con tutte le parti del corpo. Tu con cosa godi? Col gomito. La donna ama persino con l'avambraccio, con il gomito. Ha 200 zone erogenee. La donna è fatta per fare sesso e gode in maniera tattile. Tu con cosa godi? Godi con 20 centimetri più qualche altro centimetro. Ma non è quello... non sei strutturato per avere godimento da ogni parte del corpo. E quindi l'altra questione veramente che mi sono segnato tosta è che tu sei presente a te stesso. Cioè tu c'è un atto sessuale, tu devi essere presente a te stesso e duro, cioè preparato. Perché se tu non sei duro e preparato non c'è atto sessuale. Quindi tu stai trapanando, pensa ad avere un trapano in mano, stai sudando, mentre qualcuno si sta rilassando. Quindi c'è una persona completamente attiva e presente a se stessa che non può godere così tanto e una che è passiva, che può andare avanti a godere n volte. Quindi quello è un altro punto in sfavore dell'uomo, no? Allora ecco, ecco, ecco perché l'eiaculazione maschile è in teoria una tragedia, un fastidio, qualcosa che la donna mal digerisce. Perché nel momento in cui hai un orgasmo finisce il cinema e se la donna non ha avuto tanto piacere non è molto soddisfatta. Questo è il problema e la capacità di riuscire invece da un lato a cercare di allontanare l'orgasmo, quindi di essere tra virgolette tantrici. Tantrici vuol dire però andare contro quello che dicono i dottori, cioè il tantra in teoria è la capacità di là che non è solo questo ma è altro, però è anche la capacità di durare di più e quindi di dare più piacere alla donna che è predisposta per godere di più. Mentre tu sei predisposto per riprodurre, quindi per sparare quasi immediatamente. E quindi questo allungare l'orgasmo è una questione che si rifà sulla prostata e quindi è come una molla che tu schiacci, più la schiacci più quando parte, parte lontano. E quindi questa cosa non è benefica per la prostata. Quindi da un lato è rinuncio alla mia prostata per dare piacere alla mia compagna oppure me ne frego, però poi la mia compagna si fa magari sollazzare dal primo che passa che invece rinuncia alla sua prostata. Quindi questo è il problema. Un altro punto cruciale che io ho sempre smentito che è uno dei miei cavalli di battaglia è che la donna è cerebrale, l'uomo è fisico, l'uomo è una bestia. Questo non è vero. Se c'è un essere cerebrale questo è l'uomo ed è provato. E la donna invece è molto più fisica ed è provabile dal fatto che la donna spesso, spessissimo, quando gode chiude gli occhi, chiude, si abbandona e non guarda. Mentre l'uomo se non guarda non prova piacere, l'uomo è visivo. Quindi se l'uomo chiude gli occhi sente una che la bacia, sente a malapena una lucertola che gli cammina sul collo, non ha quel grande piacere. Anche in atti più erotici, in sesso orale l'uomo ha l'occhio aperto e lo potete vedere anche nei film eccetera eccetera. Quindi questa è la grande differenza fra l'uomo e la donna. La donna si abbandona, chiude gli occhi, l'uomo deve essere visivo. Allora tutto questo, no? Tutto questo è per spiegarvi che al di là del fatto che ci vuole anche il fisico, perché poi tutto quello che ho spiegato prevede una fisicità, una prestanza, perché poi se non sei prestante, se fai una mega mangiata, non c'è bisogno delle droghe, basta una mega mangiata pesante e dopo non rendi sessualmente. Quindi l'uomo deve anche essere prestante, mentre la donna può anche essere non prestante per godere, no? Quindi ti ho spiegato in pochi minuti che il sesso è femmina e non è maschio, ok? Allora perché ho spiegato questo? Per arrivare ai festini, che siano festini etero, orgi, scambisti, o che siano... non mi interessa, in questo momento non faccio la morale, sto pensando alla vita delle persone. Cosa succede in quei festini gay dove abbiamo avuto notizie di ragazzi che collassano, che rischiano la vita per l'uso di droghe? È che si cerca di amplificare e di lavorare sui punti che vi ho spiegato prima, cioè sulla mancata predisposizione fisica naturale dell'uomo ad avere un godimento lungo. Quindi in quest'epoca dell'iperpiacere si cerca di fare in modo che l'uomo goda di più e infatti le droghe che vengono spacciate in queste feste sono droghe che non è che fanno azioni generali, fanno azioni particolari. C'è una droga che deve aumentare la libido, perché l'uomo di natura quando viene va a casa, se poi non è innamorato o preso vorrebbe sparire, bere una birra. Invece questi farmaci aumentano la libido, che non è nell'uomo, al di là del fatto dell'età, può essere, se sei più giovane, più possente e più voglioso, però di base questo farmaco aumenta la libido. E poi c'è un altro farmaco, droga, farmaci o droga, e poi sono altre droghe che invece aumentano la prestanza, ma questo già partendo dal viagra, anche il viagra non è previsto. Il viagra prevede che tu faccia qualcosa a livello locale che il corpo non può fare, quindi è uno sforzo. Ecco perché si rischia la vita, perché si va a cercare di modificare la struttura dell'uomo per fare qualcosa dove non è previsto che si faccia e quindi il corpo non regge e collassa. Quindi vi lascio un consiglio, cercate sempre di capire chi siete, cercate di percepirvi, pensate, chiudete gli occhi dopo questo video e pensate alla vostra ragazza, a quando è successo, a quando fate sesso, a come lo fate, a come mi sentite dopo, a quando lo fate meglio, se avete fatto una mangiata o no, o a tutte le cose o gli spunti che vi ho dato sui quali riflettere. Cercate sempre di percepirvi e di sapere che esistono dei limiti. E soprattutto, ma magari ne parliamo in un altro video, che il sesso non è uguale ad ogni età e che il fatto di invecchiare non prevede che uno faccia sesso, parlo degli uomini, a 40 o 50 anni come lo faceva a 20, perché lì subentra una questione visiva maggiore. E Silvestre Stallone lo racconta benissimo in alcuni libri, in cui racconta come guardava donne fare l'amore, lui semplicemente guardava. Ultima cosa, mi raccomando, e ricordatevi che comunque queste cose sono sempre esistite, oggi c'è internet e quindi sono uscite, l'ho scoperto, ma basta leggere il libro di Platinet che è molto bello e molto doloroso e al di là dell'uso di droghe, dove non mi ricordo se era presente, se fosse presente o no, comunque anche Platinet raccontava negli anni 70 feste, orge, in questo caso tra uomini enormi e rischiosissime per la questione invece delle malattie, che è un'altra questione. Ok? Vi ringrazio e attenzione, percepirsi, capire le cose, non esagerare, stare nei ranghi e sapere che ci sono dei limiti umani imposti e quindi ricordatevi quello che diceva Freud, cercate di allontanare l'orgasmo, perché l'uomo, in questo caso parlo ai maschietti, più lo allontani l'orgasmo e più godrai, anche perché quando hai l'orgasmo hai la noia di averlo avuto perché l'hai ucciso e in quel momento lì uomo post coitum o uomo post coitum spesso triste, hai una sensazione dove tra l'altro se non sei innamorato, ma ne parleremo in un altro video sull'amore, spesso hai una sensazione di rigetto negativa. Mi raccomando, testa sulle spalle, un caro saluto, ciao a tutti.